Oggi farà molto caldo a Los Angeles. Che abbiamo in programma oggi? Il solito programma. Che ci fai in camera mia? Cacciare i vampiri. Cacciare i vampiri è un business. Taglio teste e incasso assegni. È tutto diverso da quando l'Unione ti ha cacciato a calci in culo. Sì, non riesco a raggiungere un bel malloppo. Mia moglie e mia figlia se ne vanno in Florida. Ciao, papà. Sei in ritardo? Di nuovo. L'Unione è l'unico posto che paga bene, amico. Il tuo storico è pieno di incidenti. Bud è un uomo nuovo. Ultima occasione. È l'ultimo avvertimento. Stemmi gate, mate. Diamoci una mossa. Mann, aiutami! Dei vampiri hanno appena cercato di uccidermi. E mi sono appena pisciato nel mio completo preferito. Tutti quanti si pisciano addosso la prima volta. Davvero? Sì, sì. No, io non l'ho mai fatto. Ma senti, tu l'hai fatto. Sai cosa vedo quando guardo un vampiro? Un grosso simbolo del dollaro. Ehi, non vomitare qui. L'ho ingoiato. Stiamoci dentro. Vampiri. Vivono in mezzo a noi. Sono solo assassini. Non è Eclipse. New Moon. Breaking Dawn parte 1. Di questo si tratta. Perché sai tutti i titoli dei film di Twilight e nello specifico? E che problemi hai con Breaking Dawn parte 2? È l'emozionante finale della saga di Twilight. Benvenuto nel maledetto turno di giorno. Funziona sempre.